Dichiaro aperte le case della Sacra Famiglia anno 2016-2017 Dichiaro aperte le case della Sacra Famiglia anno 2016-2017 E' un premio ancora più bello del vincere la Coppa Il premio più bello è imparare a stare insieme Lasciando perdere un po' tutte le cose che ci danno fastidio Che ci impediscono di stare con gli altri E quindi ecco perché è svelato il senso delle case Dichiaro aperte le case della Sacra Famiglia Dichiaro aperte le case della Sacra Famiglia Santa famiglia Santa famiglia Santa famiglia Santa famiglia Santa famiglia Bravissimi